Mmm, un gioco in cui bisogna pulire la polvere da una stanza? Qualcuno ha detto polvere? Per l'ennesima volta, ma non è questo quello che intendevo. Zitto e pulisci! Ciao a tutti, io sono Capitan Mimmo e benvenuti nel nostro canale YouTube Sharing Game. Pronti per pilotare i robottini più teneri nel mondo? Oggi vedremo insieme Quirky Circuits. Quirky Circuits è un gioco da 2 a 4 giocatori, della durata orientativamente di 15-30 minuti a partita e di una dettaglia da Asmodel che ringraziamo tantissimo per averci mandato questo gioco. Grazie mille ragazzi. In Quirky Circuits tutti i giocatori controlleranno un solo robottino e dovranno cooperare per portarlo alla vittoria. Tutti i giocatori coopereranno tra di loro e dovranno dare degli ordini segreti nascosti agli altri giocatori al proprio robottino. In questo modo il robottino si muoverà e farà le sue azioni, con lo scopo di al fine ripulire tutta quanta la stanza dai cognetti di polvere oppure prendere le bandierine e tornare al punto di partenza. Ma qual è il problema? Gli ordini che ogni giocatore darà saranno segreti e nascosti agli altri giocatori, quindi gli altri giocatori non sapranno quali ordini ha dato l'altro giocatore, non sapranno come si muoverà e quindi loro dovranno giocare altre carte nella speranza di aver indovinato il punto esatto in cui il loro robottino sarà. Quirky Circuits è un gioco sicuramente molto facile e dà regole facilissime che si imparano subito, sono veramente pochissime regole. Tuttavia devo dire che se da un lato le regole e la modalità di gioco effettivamente è molto molto facile, il vincere non è per niente facile, poiché infatti ci sarà il tempo a essere vostro nemico rappresentato dalla durata della batteria e se non riporterete il robottino entro lo scadere del tempo avrete perso la partita. Un gioco quindi in cui la vittoria non dipenderà esclusivamente da voi ma vi dovrete assolutamente affidare ai vostri compagni e coordinarvi tantissimo tra di voi, sempre senza poter parlare, nella speranza di arrivare insieme a una comune vittoria. Vi dico subito tra l'altro che questa è la versione più piccola del gioco, è la versione chiamata Penny Gizmo Snow Day, con soltanto due miniature e dieci scenari, mentre invece esiste addirittura un'altra versione con molte più miniature e molti più scenari che costa addirittura anche il doppio, poco più del doppio e che attualmente non è stata tradotta in italiano. Bene, se questa premessa vi ha incuriosito adesso vediamo insieme come funziona con le regole Quirky Circuits. Come sempre se volete saltare questa parte e andare direttamente ai pro e contro vi basta semplicemente cliccare il link in descrizione. Buona visione! Per una partita a Quirky Circuits, per prima cosa? Prendete il libretto delle missioni e scegliete uno scenario a cui giocare. Nella parte di sinistra saranno indicati gli elementi da mettere su questo scenario, in particolare quale personaggio potrete giocare e lo andrete a posizionare nell'apposito spazio freccia in quella direzione indicata. Collocate inoltre negli appositi spazi in cui è indicato i coniglietti di polvere e, solo in alcune missioni in cui vi verrà espressamente richiesto, collocate anche i segnalini vaso di fiori. Quindi mettete l'indicatore batteria che rappresenterà sostanzialmente lo scorre del tempo nel tracciato a destra sulla casella più in alto. Infine prendete la carta del vostro personaggio e tutte le carte comando del vostro personaggio blu, facendo attenzione poiché esistono sia quelle del vostro personaggio che quelle dell'altro personaggio che giocherete in altre missioni. Sarà infatti la missione stessa a dirvi quale personaggio potrete giocare. Fate attenzione inoltre poiché in alcune missioni, oltre ai normali carte comando blu, dovrete mettere anche delle carte comando gialle, ma ciò vi verrà indicato nella pagina a sinistra dello scenario. Quindi date a ogni giocatore un numero di carte comando a seconda del numero di giocatori e ora la partita può avere inizio. Lo scopo di Quirky Circuits sarà quello di raccogliere tutti i segnalini coniglietti di polvere prima che la batteria giunga allo zero. Una volta raccolti però, il vostro personaggio dovrà tornare nella casella di partenza e solo a quel punto potrete dire di aver vinto la partita. In Quirky Circuits tutti i giocatori coopereranno e ci sono sostanzialmente tre fasi. Nella fase di programmazione tutti i giocatori giocheranno contemporaneamente, tutti assieme, le carte comando dalla loro mano. Attenzione, tutti i giocatori dovranno giocare le loro carte coperte e in questa fase non ci sarà un ordine di turno, per cui chi giocherà prima una carta sarà quella carta che si applicherà prima degli altri. E quando un giocatore giocherà una carta, dovrà giocarla subito dopo l'ultima carta che è appena stata giocata, non potendo spostarla e metterla prima o scegliere di metterla nell'ordine che preferisce. Ogni giocatore dovrà giocare almeno una carta e in totale sul campo di gioco ci devono essere almeno 5 o più carte. Attenzione, molto importante, in questa fase i giocatori non possono assolutamente comunicare tra di loro e dovranno giocare le carte coperte, le dovranno giocare contemporaneamente, quindi in questo senso ci deve essere molta coordinazione tra i giocatori, coordinazione che è data anche dal non poter parlare. L'unico indizio che ci potrà essere sarà il segnalino sul reto della carta. Questi segnalini infatti vi faranno capire se quella carta appena giocata sarà una carta che manderà avanti oppure indietro, così come una carta che potrebbe girare a destra o a sinistra o addirittura rigirare su se stessa, senza tuttavia specificarvi di quanto manderà avanti o indietro un personaggio né se girerà a destra o a sinistra. Attenzione, se per caso un giocatore ha nella propria mano una o più carte gialle, in questo caso quando quel giocatore giocherà una carta è obbligato a giocare per primo una carta gialla. Nella seconda fase i giocatori dovranno girare le carte che hanno giocato e applicare gli effetti delle carte a partire dalle carte di sinistra fino a quelle di destra. Le carte quindi verranno risolte nell'ordine in cui sono state giocate. Fate fare quindi tutti i movimenti al vostro personaggio, ricordando che vi muoverete del numero di caselle indicato sulla carta, così come che girerete nella direzione che vi indicherà la carta e che è facilmente rappresentata dal disegnino sotto la carta. Nel caso in cui un personaggio dovesse andare a sbattere contro una barriera rappresentata da linee continue gialle o nere, in questo caso termina il suo movimento e si passerà a risolvere la carta successiva. Se nel punto in cui si è andato a sbattere inoltre c'era un vaso di fiori, in quel caso il vaso di fiori cadrà dalla parte esattamente opposta, andandosi a rompere. Quindi da adesso dovrete oltre pulire coniglietti di polvere pulire anche quel vaso di fiori. Infine nella terza fase muovete l'indicatore batteria di una casella verso il basso e distribuite carte a tutti i giocatori fino a che non hanno ripristinato la loro mano iniziale, di 4 o 5 carte a seconda del numero dei giocatori. Ogni personaggio inoltre avrà un'abilità speciale indicata sulla sua carta, per cui il gattino se sbatte contro un ostacolo ferma il suo movimento ma gira immediatamente a sinistra, o come il pinguino per cui se si muove attraverso una discesa andando nella stessa direzione della freccia scivolerà in quella direzione finché non colpisce una barriera o un'altra discesa. Nel corso degli scenari ci saranno altre regole aggiuntive che vi verranno spiegate di volta in volta a seconda di quale scenario giocherete, come quelle che riguardano le discese oppure passare sotto le sedie. Se il segnalino batteria arriva allo zero, i giocatori avranno perso la partita. Mentre se prima dello scadere del tempo i giocatori saranno riusciti a raccogliere tutti i coneglietti di polvere e a tornare al punto di partenza, avranno vinto la partita. Bene, ed eccoci qua tornati ai pro e contro di Quirky Circuits. Tra i pro sicuramente ci sono i materiali, ha infatti dei bei materiali capaci di attirare l'occhio sia dei più grandi che dei più piccini. Ha delle belle miniature fatte bene anche abbastanza grandi, molto tenere e pucciose che sotto certi punti di vista ricordano anche quelle di Fiabe di Stoffa. Così come il libro sostanzialmente con le mappe di gioco che riguarda anch'esso Fiabe di Stoffa. Un libro molto colorato, con delle belle illustrazioni e soprattutto delle belle carte che attireranno sia i bambini che i più grandi e soprattutto gli amanti dei gatti. La mia ragazza compresa. Inoltre è un gioco che, passatemi il termine, sembra una cavolata pazzesca ma non lo è. Sembra infatti un gioco facilissimo. Ha delle regole, sono molto facili, molto semplici da spiegare e da imparare. Lo imparerete subito senza problemi e lo giocherete senza difficoltà. Tuttavia, se è vero che è facile giocare, non è per niente facile vincere. Infatti voi farete una sfida contro il tempo. Ci sarà il livello della batteria che si abbasserà di turno in turno e riuscire a finire la missione e tornare al punto di partenza prima della fine della batteria non sarà per niente facile. Vi basterà infatti sul finale, sicuri di aver vinto, giocare una carta sbagliata e quella carta magari rimanderà dalla parte esattamente opposta e poi per riuscire a tornare al punto che vi interessa sarà veramente difficile, soprattutto se ci sono ostacoli come discese oppure sedie o altri vasi di fiori che si possono rompere. Senza contare che dei due personaggi, quello del pinguino, è sicuramente un po' più complicato rispetto al gatto poiché il pinguino giocherà continuamente con queste discese e andando su discesa non si sa dove finisce. E' inoltre un gioco in cui se vorrete potrete aumentare il livello di difficoltà. E' vero che è un gioco sempre facile, con la meccanica estremamente facile e rapidissimo da imparare, ma volendo potrete aumentare il livello di difficoltà diminuendo la vostra vita, cioè diminuendo il livello della batteria. Partirete magari dalla vita gialla o addirittura dalla vita rossa in questo caso avrete pochissimi turni per completare la vostra missione e tornare al punto di partenza e questo non sarà per niente facile perché come abbiamo detto il vostro principale nemico sostanzialmente sarà il tempo. Vi dico tra l'altro che noi la maggior parte delle partite l'abbiamo vinta proprio per il rotto della cuffia siamo rimasti infatti sul limite a batteria con uno o due di vita di batteria e quindi abbiamo rischiato seriamente di perdere a moltissime di queste partite proprio perché vi basta un piccolissimo errore magari nella fase finale per riuscire a mandare a monte tutta quanta la partita. E' inoltre un gioco dal prezzo basso, si aggira sui 20€ e ci sono spesso vari sconti per cui lo troverete anche a prezzi addirittura inferiori a 20€ il che ve lo rende ideale se vorrete provarlo senza doverci spendere una fortuna. E' un gioco inoltre dalle regole rapide e facilissime da imparare questo perché è targetizzato per un certo pubblico soprattutto per un pubblico più femmini potrete giocarci infatti con i vostri figli e addirittura con bambini che ancora non sanno leggere infatti sulle carte non ci saranno scritte ci saranno soltanto i disegni che indicheranno se il personaggio andrà dritto, a destra, a sinistra e di quanto. Per quanto riguarda i contro sicuramente un contro è che in questa versione diciamo più piccola del gioco ci sono solamente due personaggi nella versione più grande infatti ci sono altri personaggi c'è il gatto ma c'è anche il cane robot una specie di apetta ci sono tantissimi altri personaggi mentre qua ci sono solamente due personaggi e questo effettivamente è un po' poco è vero che ogni personaggio magari ha anche una sua piccola abilità anche se è una piccolissima abilità non aspettiamoci che sa che cosa però effettivamente due personaggi danno poca variabilità e sono un po' pochi sarebbe stato bello per esempio anche che i due personaggi potessero interagire tra di loro e quindi magari che ci fosse stato uno scenario in cui invece di un solo robottino si potessero giocare due robottini insieme quello sarebbe stata una cosa veramente molto molto caruccia che avrebbero potuto fare per variare ancora di più il gioco un altro contro è che ci sono poche carte comando le carte comando sono quelle con cui darete l'ordine ai robottini di muoversi e fare le cose tuttavia sono un po' pochine per cui quando avrete fatto due turni dovrete rimescolare il mazzo degli scarti e darle nuovamente questo normalmente non è un problema ma se ogni due turni dovrete stare sempre a rimescolare il mazzo degli scarti per ridare sempre le carte questo alla lunga potrebbe essere un po' stancante un altro contro è che lo scopo della missione tende ad essere un po' ripetitivo questo non vuol dire che gli scenari siano per forza ripetitivi perché gli scenari anzi hanno delle variazioni interessanti alcuni scenari infatti introducono elementi come le sedie le discese, i vasi che si possono rompere e quant'altro che variano il gioco per non parlare delle carte gialle che si introducono in alcuni scenari tuttavia di per sé il vostro scopo sarà sempre quello di ripulire la stanza e tornare al punto di partenza questo sempre 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 e questo magari per un giocatore un po' più grandicello potrebbe essere una nota un po' ripetitiva un altro contro ma questo più che un vero e proprio contro gli entra nella meccanica in sé del gioco è che è un gioco che porta facilmente a rosicare nel senso voi durante il gioco farete la vostra tattica farete le vostre azioni giocherete le vostre carte tutto bene ma spesso la vittoria non dipende assolutamente da voi spesso ci sarà il vostro compagno che giocherà magari una carta sbagliata credendo che fare nel giusto e quindi perderete tutta la partita o perderete tantissimo tempo proprio per colpa di questa sua mossa quindi voi rosicherete tantissimo poiché in questo gioco voi potrete perdere e non sarà colpa vostra ma come detto questo rientra a diverse nella meccanica di questo gioco bene questo era il video tutorial con recensione di Quirky Circuit un gioco che sicuramente per i materiali ci ha attirato ricordandoci a suo modo anche fiabe di stoffa un gioco che certamente non è uno spacca cervelli ma adatto più a un pubblico family e di gattari un pubblico composto anche da bambini e volendo anche da bambini un po' più piccoli un gioco in cui all'inizio direte wow ma è troppo facile troppo semplice ma poi nel corso della partita vi rendrete conto che spesso non riuscirete a coordinarvi con gli altri giocatori e spesso gli altri giocatori giocheranno delle carte completamente opposte a quelle che voi volevate fare e quindi rimanderanno in direzioni completamente diverse e questo era il video tutorial con recensione di Quirky Circuit spero che il video vi sia piaciuto e come sempre se vi è piaciuto mi raccomando mettete mi piace iscrivetevi al canale youtube sharing game attivate la campanella per sapere quando faremo un nuovo video e condividete e condividete e condividete sempre più ciao a tutti da Capitan Mimmo grazie a tutti grazie a tutti